Sapevi che Kilian Pempe ha fatto causa ad un kebabbaro? Il motivo potrebbe farti avere meno stima nei suoi confronti. Una kebaberia ha usato il suo nome nella descrizione di uno dei panini. Il proprietario del negozio ha descritto il suo panino così, pane tondo, come la testa di Mbappé. Pempe ha davvero iniziato azioni legali per un uomo che ha fatto una battuta innocua, dicendo che se non rimuoverà il nome entro otto giorni, la storia si risolverà in tribunale. Pensi che Pempe abbia esagerato?